I reni, pulirli con una bevanda 100% naturale. Per depurare i reni e assicurarci che funzionino in modo corretto, dobbiamo aumentare l'assunzione di liquidi e favorire così l'espulsione delle tossine che potrebbero ostacolare le funzioni di questi organi così importanti. I reni sono gli organi che si occupano di filtrare le tossine attraverso il flusso sanguigno per poi eliminarle attraverso l'urina. Se sono in buone condizioni, i reni svolgono naturalmente questa funzione, tuttavia, a volte sono sovraccarichi ed hanno difficoltà a portare a termine il loro compito. Il problema è che le sostanze di rifiuto rimangono nell'organismo e, con il passare dei giorni, compromettono seriamente la salute. Di fatto, possono scatenare malattie più serie, come ad esempio l'insufficienza renale o i calcoli. Nei casi più gravi, inoltre, alcuni organi vitali, come il cuore o il fegato, possono risentire del malfunzionamento dei reni. La buona notizia è che esistono alcuni metodi naturali per favorire il buon funzionamento dei reni e l'eliminazione delle sostanze di rifiuto. Tra questi, c'è una bevanda antiossidante e diuretica che potete preparare comodamente a casa vostra in poche semplici mosse. Bevanda agli agrumi per pulire i reni e sciogliere i calcoli renali Questa bevanda naturale per pulire i reni e combattere i calcoli renali unisce limone verde, lime e arancia. Dato che è ricca di fitonutrienti ed antiossidanti, se bevuta diverse volte al giorno, questa bevanda contribuisce a migliorare il funzionamento dei reni. Tenendo conto che l'assunzione di liquidi è fondamentale per un adeguato processo di disintossicazione, questa alternativa è un'opzione molto sana. Il suo contenuto calorico è minimo, mentre l'apporto di vitamina C, minerali e fibra alimentare è notevole. Questa bevanda, inoltre, ha proprietà diuretiche che stimolano l'eliminazione dei liquidi accumulatisi nell'organismo e delle sostanze che formano i calcoli. Il limone, così come il lime e l'arancia, contiene acido citrico e acido fosforico tra i suoi componenti principali. Queste sostanze contribuiscono a regolare l'acidità dell'urina e svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei calcoli renali. Il beneficio più grande è che questi alimenti insieme rafforzano il sistema immunitario, quindi riducono il rischio di infezioni e di malattie delle vie urinarie. Come preparare questa bevanda agli agrumi per pulire i reni ed evitare la formazione di calcoli. Con questo rimedio, potrete prendervi cura della salute dei vostri reni e, allo stesso tempo, depurare il vostro sistema digerente e il fegato. È un'ottima alternativa per chi ha difficoltà a bere acqua, infatti gli agrumi conferiscono a questa bevanda un sapore gradevole. Questo significa che è anche un buon modo per idratare l'organismo, perdere peso e migliorare la salute della pelle. Ingredienti 5 tazze di acqua, 1 1-4 litro, 1 limone verde, 1 lime, 1 arancia, 10 foglie di menta, 1 cucchiaio di aceto o di bicarbonato di sodio, 10 gr, preparazione diluite l'aceto o il bicarbonato di sodio in acqua e osatelo per disinfettare la buccia di tutti gli agrumi. A seguire, tagliate il limone a fette, fate lo stesso con il lime e l'arancia. Mettete la frutta in una caraffa e, poi, aggiungetevi l'acqua e le foglie di menta. Lasciate riposare per almeno due ore, ma sarebbe preferibile tutta la notte. Il mattino dopo, bevetene un bicchiere a digiuno e poi altre due o tre volte durante l'arco della giornata. Continuate il trattamento di depurazione per una settimana, poi riposate per altre due prima di riprenderlo. Da non dimenticare. Anche se questa bevanda è di grande aiuto per la salute dei reni, è fondamentale considerare che i risultati dipendono anche dalle altre abitudini di vita. In questo senso, bisogna migliorare l'alimentazione e ridurre l'ingestione di alimenti ricchi di ossalati, come il caffè, le bibite commerciali, la frutta secca o il cacao. Conviene anche aumentare la dose di vitamina C, non solo al fine di sciogliere i calcoli, ma anche per proteggere tutto il sistema urinario. Una buona opzione è quella di includere i mirtilli nella dieta, poiché sono un frutto ad alto contenuto di antiossidanti, vitamine e minerali. Bevete almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno e, se avete difficoltà a bere tanta acqua, optate per le bevande naturali, gli infusi, la frutta o altri alimenti che contengono liquidi. In caso di una malattia renale o se state assumendo qualche farmaco in particolare, consultate il medico prima di cominciare con questo rimedio naturale.